Stamattina Mr. Braglia ha lasciato spazio giustamente allo staff tecnico, allora cominciamo con il vice allenatore Domenico De Simone, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora Mr., giusto per capire un po' che aria si respira nello spogliatoio, non è matematicamente sfumato il secondo posto, la vino se la dovrà giocare contro una cavese che ha già dimostrato però di essere una squadra che non è in vacanza. No, è chiaro che veniamo da un risultato che non era quello sperato, ma ciò non toglie che comunque il morale è alto perché c'è consapevolezza di aver fatto una stagione comunque importante e c'è grossa convinzione di poter fare benissimo anche nei playoff. Quindi il morale è abbastanza alto e l'ultima fatica della stagione speriamo di chiudere bene perché è quello che ci meritiamo un po' tutti. Salve, lei parlava di stagione importante ovviamente da blindare il più possibile. Alla luce della condizione psicologica non certo felice dell'ultimo incontro e alla luce di quanto stigmatizzava il collega poco fa di una cavese che non è in vacanza l'Avellino si gioca direi più che il secondo posto anche una fetta di orgoglio che sicuramente tornerebbe utile poi nei playoff. Più che altro bisogna ritornare a vincere le partite per ritrovare quell'entusiasmo che nelle ultime due partite è un po' escemato. Ma detto questo, ripeto, la squadra è consapevole di aver fatto una stagione importante e sa di avere delle buone possibilità per poter dire la propria nei playoff e si sta preparando per quello. Per il resto parla sempre il campo come abbiamo fatto per tutto il resto della stagione e speriamo di portarlo avanti, ripeto, per il più a lungo possibile. Salve, Ministro, buongiorno. Buongiorno. Mi incuriosisce cercare di capire come verrà gestita questa partita, la prossima, perché ci sono un paio di opzioni. Considerare questa settimana e quindi la partita come una sorta già di recupero in vista dei playoff oppure dare il massimo, perché sostanzialmente si può anche sperare che Catanzaro non vinca. Sapremo già cosa ha fatto il Suttirol, che c'è il meccanismo della migliore terza e quant'altro. Cioè, per capirci, si farà già rifiatare qualcuno, si cercherà di evitare che becchi il giallo i due diffidati oppure si va lì, insomma, a pieno organico, chiamiamola così? No, intanto le partite vanno sempre giocate. La storia insegna che il campo è pieno di sorprese, è pieno di inseglie. Quindi credo che ce la giocheremo per portarla a casa, con tutte le nostre forze, anche perché comunque penso, come dicevamo già prima con il suo collega, che ritrovare il morale lo ritrovi soprattutto vincendo. Ed è chiaro che andremo lì per giocarci la partita con tutte le nostre possibilità. stando attenti, chiaramente, anche a determinate cose, ma c'è tempo per fare calcoli. Ora non è il momento di fare calcoli, secondo me. Ecco, Mimmo, innanzitutto buongiorno a tutti. A prescindere dalla posizione finale, secondo o terzo posto, che tutto sommato sostanzialmente dipende sempre dall'Avellino, affrontare poi i play-off da una posizione anziché da un'altra, e quindi potrebbe essere anche relativo il secondo e il terzo posto, perché bisogna vedere, come giustamente dicevi anche tu, come ci si arriva a questi play-off. Ecco, ti sei fatto, vi siete fatto voi un'idea insieme con il mister per quanto riguarda il lotto delle partecipanti ai play-off e quelle squadre che potrebbero dare veramente maggiore fastidio all'Avellino? Uno un'idea se la può anche fare, però la Sfera di Cristallo purtroppo non ce l'ha nessuno. Non possiamo sapere dalle partite come abbiamo noi le incognite di chi dobbiamo affrontare e avranno anche le squadre che parteciperanno ai play-off. Quindi non sappiamo da quel lotto lì la squadra che in quel momento sta meglio o sta peggio. È chiaro che un po' il panorama del girone B, del girone C, del girone A ce l'abbiamo, ma non abbiamo l'idea di chi sarebbe meglio affrontare e chi no. In quel momento, come diciamo tutti da tempo e come sanno tutti, quello che fa la differenza è la condizione fisica e la condizione mentale di come ci si arriva. Noi speriamo, ci prepariamo per arrivare al meglio e poi a quel punto ogni avversario vale l'altro. Non credo che si possa fare differenza a quel livello lì. Mimmo, volevo chiederti anche da ex giocatore, il mister ha detto una cosa importante la scorsa settimana, lo dicono anche gli addetti ai lavori, i calciatori devono anche rendersi conto dell'opportunità che hanno. I play-off sono una grande occasione, diversi giocatori li hanno già giocati, penso a Forte Ciancio che li hanno anche persi, altri casomai giocano per la prima volta. Questo è un aspetto importante sul quale avere, secondo me, motivarli, dargli le giuste motivazioni. Ti chiedo questo e ti chiedo anche se secondo te ci sono giocatori che casomai negli spareggi potrebbero esprimere un potenziale, penso ad Enrico se sta bene, che fino ad ora non hanno potuto per una serie di condizioni esprimere. Ma io credo che loro abbiano, diciamo, contrezza di quello che è vincere in una piazza così e soprattutto vincere. Tra l'altro ci sono dei giocatori che hanno avuto la fortuna di assaporare il successo di un campionato e quelli che sono i risvolti. Quindi io credo che tra di loro, ma ce ne accorgiamo anche noi, delle attenzioni che ci sono nelle ultime partite, faccio un esempio stupido, anche nella fase di riscaldamento, quelli che non giocavano erano partecipanti, cosa che durante la stagione magari non succede, perché hanno capito l'importanza del momento. Che fosse un gruppo maduro non penso che dovessimo aspettare le ultime partite, perché ce ne siamo accorti, penso, mesi e mesi fa, quando abbiamo affrontato di forse volte il Covid, come l'abbiamo affrontato. È chiaro che adesso diventa un po' più facile, perché diciamo che ci sono delle circostanze che hanno fatto sì che il Covid si potesse attutire come preparazione, per assorbire meglio. Cose che invece noi, ai tempi, mi riferisco al primo Covid che abbiamo avuto, eravamo del tutto impreparati. Noi, sfortuna nostra, siamo passati da questa strada per almeno tre volte. Non è stato semplice. Per il resto, credo che ci sono dei giocatori che nei play-off ce ne sono almeno due o tre, non dico il nome perché non mi andrebbe di caricarli di responsabilità, ma noi sappiamo benissimo che ci possono dare qualche cosina in più. Spero che succeda. Tra l'altro li stiamo preparando per cercare di metterli nelle migliori condizioni, perché le loro fortune dipendono, sarebbero anche le nostre, quindi non saremmo che felici. Mister, buongiorno. Sull'onda dell'entusiasmo per la vittoria con il Bari è passato un po' in sordina l'infortunio occorso a Luigi Silvestri, che dal punto di vista tecnico e tattico è fondamentale, lo stiamo vedendo in queste due partite per l'Avellino. Le chiedo dunque a che punto siamo con il recupero di Laezza, che sembra l'unico per caratteristiche, anche per esperienza, in grado di sostituirlo senza intaccare il 3-5-2. Se il 4-3-1-2 può essere una soluzione con le condizioni di Enrico da monitorare, percorribile dal primo minuto. E poi l'ultimissima, come gestirete i diffidati Ciancio e Rizzo a Cava? Parto dall'ultima, così poi dopo caso mai mi ricordi all'ultima. I diffidati, come dicevo prima al suo collega, cioè in questo momento noi pensiamo soprattutto al presente, che è quello di ritornare alla vittoria, perché è l'unica cosa che effettivamente ti sanifica un po' tutto, cioè nel senso ti ridà morale, ti ridà fiducia, non che questa squadra non ce l'abbia, anche perché parliamo di uno o due scivoloni, poi per il resto ognuno ha la sua idea e va benissimo. Per quanto riguarda invece il discorso del modulo, è una cosa già stata provata, tra l'altro nel secondo tempo di Vibo, andata anche discretamente secondo me, è una strada che potremmo percorrere, ma ce ne sono anche altre, non c'è solo quella in grembo, oltre il 3-5-2 che oramai è abbastanza consolidato. Giuliano è già ritornato in gruppo, è già credo un mese che si allena con noi, è a ritmi pieni, noi è chiaro che tentiamo di recuperarlo al 100%, perché sappiamo che oltre ad essere un'alternativa a Silvestri, e comunque all'inizio stagione era tra i giocatori che potevano comunque sia darci un assetto importante difensivo, perché ci poteva permettere di giocare con i tre, con i quattro, insomma, però non l'abbiamo perso quasi subito, e quindi niente, adesso tentiamo di recuperarlo il più velocemente possibile, ma è già un mese, ti ripeto, che lui è ritornato, e quindi adesso vediamo come reagirà nelle prossime settimane. Già risposto, io ho detto che giocano comunque, che comunque noi non facciamo calcoli in questo momento. Mister Buongiorno, mi ricollego a quello che ha detto poco fa, rispetto alla possibilità di cambiare modulo, in questo senso potrebbe essere funzionale e utile anche l'impiego dal primo minuto di Enrico, in vista di Cava, ma anche in vista di quello che dovrà essere l'Avelino per i play-off. E seconda domanda, negli ultimi due partiti non abbiamo segnato, per la mia volta in questo campionato, è un problema di determinazione, cattiveria sotto porto, oppure nel complesso la squadra è venuto meno? Allora, per quanto riguarda il modulo, credo che, come è sempre successo in quest'anno, a determinarlo sono sempre le condizioni fisiche dei giocatori. È chiaro che se Enrico ci darà delle risposte importanti in determinati ruoli, può darsi che noi possiamo pensare a cambiare il modulo. Per quello che riguarda il problema del gol, invece, secondo me, perdonatemi, ma almeno per come l'abbiamo analizzata noi, sia questa ultima che abbiamo fatta, che a Vibo, secondo me, sono state due partite dove noi abbiamo creato. Poi è chiaro che si può sbagliare, come in altre circostanze, invece che abbiamo fatto molto meno, e comunque abbiamo portato a casa i tre punti. È chiaro che il risultato finale molto condiziona il giudizio. Io non credo che ci sia un problema del gol, sinceramente. Abbiamo quattro giocatori lì davanti che ci garantiscono comunque una buona pericolosità per il gioco d'attacco, quindi credo che il problema del gol personalmente non esista. Commissario, volevo chiedere una cosa, al di là della partita con la Cavese, c'è stata una bella iniziativa, quella della società, di poter mettere il nome e cognome dei tifosi sulla maglia dei play-off. Lei che è sempre stato legato a questa piazza, non so, cosa ne pensa? Ho bisogno di fare in fretta, perché stanno finendo, quindi adesso con Alfonso ci mettiamo avanti, però la trovo veramente una bellissima iniziativa, quindi tra l'altro sento anche i ragazzi nello spogliatoio che si stanno organizzando per aderire, quindi si vede che è stata un'iniziativa e chi l'ha pensata, l'ha pensata veramente bene. Complimenti davvero. Come sta la squadra? Perché qualcuno ha anche detto, notato magari un leggero calo fisico, ha imputato magari anche un calo fisico le ultime due prestazioni, se ci può illustrare lo stato di forma. Sì, certo. Allora, la squadra in linea generale sta abbastanza bene. Sicuramente qualcuno era un po' sotto tono in queste due partite, soprattutto quelli che hanno avuto il Covid, perché il Covid purtroppo quest'anno, come avete ben visto, ci ha creato parecchi problemi. Dunque qualcuno può essere sotto tono, ma a livello generale la squadra per me sta abbastanza bene. Certo, qualcuno deve ancora crescere, abbiamo il tempo per prepararci bene e affrontare quest'ultima partita e poi pensare ai play-off. Buongiorno. In questo tempo che avrete per preparare i play-off, farà dei lavori in maniera individuale, specifica o collettiva? Soprattutto su alcuni, come diceva lei, che io per esempio vedo in grossa difficoltà. Sì, certo. Sicuramente se c'è da fare qualche lavoro individuale lo faremo. Questo sì, sarà un lavoro di gruppo, poi che ha bisogno di integrare un po' di più, fare qualche lavoro specifico, tutto quanto, questo sì, per cercare di allineare tutti a una condizione generale. Sicuramente chi ha avuto il Covid, sia all'andata, sia al ritorno, ci ha creato parecchi problemi, soprattutto perché siamo stati sempre pochi e quando si è pochi è difficile anche lavorare, non solo dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista tecnico-tattico, perché gli allenamenti non vengono nella maniera giusta. però purtroppo l'abbiamo affrontato, l'abbiamo superato e sicuramente abbiamo margini di crescita, abbiamo anche il tempo per prepararci bene per affrontare i play-off. Ecco, 14 giorni per questi che ho indicato, basta, no? Sì, certo, possono bastare, assolutamente. Buongiorno, volevo chiederle innanzitutto cosa comporta entrare in scena eventualmente una settimana prima rispetto a quanto stabilito, se c'era un tabellino, un ruolino di marcia che verrà un po' cambiato e poi il percorso di Enrico, perché stiamo vedendo quanto è importante questo calciatore per qualità tecniche. La sua è stata una stagione un po' travagliata, lei immagino che l'abbia vissuta da vicino in prima persona. Sì, sì, abbastanza sicuramente. Ci sono state varie ricadute, sicuramente qualche errore si è fatto, come in ogni situazione, però adesso fortunatamente vediamo la luce e dunque sta abbastanza bene, sicuramente non gioca da tanto tempo, dunque gli manca il ritmo partita, perché uno si può allenare quanto vuole, però poi è la gara che ti dà la condizione giusta, però sta abbastanza bene. Sicuramente se abbiamo più tempo, abbiamo più tempo per prepararci meglio, sicuramente, non conto arrivare a secondi e terzi, però cambia poco, secondo me, dovremmo fare una cosa più ristretta se arriviamo a terzi, se arriviamo a secondi, perché ancora tutto è possibile, abbiamo più tempo per prepararci, sia a livello fisico, sia a livello tattico, con il mister. Buongiorno, quanto è stato difficile garantire una condizione omogenea all'interno di un gruppo che è stato condizionato dal Covid, e poi per chi è tornato dal Covid, che differenze ha trovato sotto il profilo della prestazione, anche del rendimento in campo, perché abbiamo visto che dei giocatori che, tipo Carriero, che dopo dal Covid è tornato in grandi condizioni, si è fermato una settimana per la squalifica, e non abbiamo messo le stesse condizioni, è un problema legato proprio a questo ritardo legato al Covid oppure ci sono altri fattori? Avete centrato bene la situazione. Il Covid ci ha creato problemi enormi, sia all'andata, sia al ritorno. Anche sempre quando stavamo bene, c'eravamo tutti, stiamo facendo prestazioni giuste, quando ti vengono a mancare 4, 5, 6, 7 giocatori è difficile. Poi, quando loro sono in isolamento, non è che possono fare grandi cose, hanno un programma da fare di forza, però è a casa, con carichi naturali, non è come lavorare al campo, in palestra, tutto quanto. Se al campo gli do 100, a casa possono fare 20, 30. E ci sono state anche situazioni che eravamo in grande emergenza e dopo che uscivano chi da 10, chi da 15 giorni facevano allenamento e poi li buttavamo in campo con rischi altissimi, però purtroppo non c'era soluzione. Dunque, all'inizio rimetterli in condizione è stato complicato, non solo, perché la prima partita, bene o male, quando rientri la puoi fare di nervi, la puoi fare poi, la paghi dopo la seconda, la terza e hai un crollo verticale. Poi piano piano si rialliano agli altri, però è stato molto complicato, sinceramente. Volevo farti due domande. La prima, se si fa un lavoro specifico, qualche addetto a lavori dice no, cioè la condizione chiaramente forse è quella sulla quale hai lavorato dal ritiro ad oggi e quindi non credo che ci siano sicuramente carichi di lavoro, se mi spieghi che tipo di preparazione farai. La seconda domanda è una curiosità, rispetto al campionato che hai vinto con Vullo in cui c'era anche Mimmo, De Simone, è chiaramente un altro calcio, era un'altra squadra, un'altra atmosfera, se noti qualche cosa simile, c'è qualche similitudine che ti viene in mente. Grazie. Per quanto riguarda la prima domanda, sicuramente faremo un po' di lavoro, lo faremo, ma sarà un lavoro generale, perché arrivati a questo punto non è che possiamo fare individuali e tutto quanto. Dunque, in base al periodo che avremo, diluiremo un lavoro. Se avremo poco tempo, dieci giorni, faremo un certo tipo di lavoro, se ne abbiamo venti, noi faremo un altro, sempre in sinergia con il lavoro del mister, con il lavoro di Mimmo, perché non c'è lavoro mio, lavoro loro, ma lavoro di tutto uno. Dunque, a livello fisico si lavora tanto con la palla e anche a secco. Dunque, dipende dal tempo che avremo. Ok, sicuramente sarà un lavoro, un lavoro generale. Similitudini con la seconda domanda, con quell'anno, ce ne sono tante. Prima di tutto il gruppo. La cosa anomala, purtroppo, è che non ci siete voi, non c'è il pubblico e questa è una cosa molto penalizzante, perché Avellino, ormai io sono vent'anni che sono qua, mi considero di Avellino, mia moglie è di qua, le mie bambine sono di qua, e il pubblico fa la differenza, almeno soprattutto, in casa. Le similitudini, l'è vero, perché il gruppo è molto unito, l'obiettivo è quello. Se ci siamo tutti e stiamo bene, per me è difficile batterci per chiunque, dunque sono fiducioso. Senti, data la tipologia un po' specifica di questi play-off, e anche, chiaramente, loiato, la netta differenza tra la fine della stagione regolare e l'inizio dei play-off, insomma, intercorrono diversi giorni, insomma, in effetti, sul proscenio sali tu, rispetto al mister, cioè praticamente, il tuo ruolo diventa fondamentale. Ecco, volevo chiederti, se non ritieni, insomma, la grande responsabilità, il grande ruolo che devi assumere in questo periodo, insomma, se ti conferisce ulteriore responsabilità, insomma. Sì, certo, è normale che mi conferisce alla prima di tutto, io sono di qua, dunque è normale la responsabilità, è la mia città, è dunque è normale che le responsabilità sono sempre di più perché voglio far bene. Le altre volte che sono stato qua, fortunatamente è andato bene, sono stato, questa è la terza volta che ritorno, la seconda, ho fatto la finale play-off col trapani, perse supplementari, che poi salimmo su, uguale, dunque, si dice, non c'è due senza tre, speriamo, questo sì, però è normale che sento responsabilità perché il lavoro mio è importante come di tutto lo staff, però sono fiducioso, sono fiducioso perché il play-off li ho fatti altre volte e dunque spero che finiscano bene come sono finiti gli altri play-off. Mi ricollego per un'altra domanda a quello che ho chiesto anche a Mr. Desimone su Luigi Silvestri, c'è una speranza reale di averlo almeno in panchina ai tempi di recupero un po' quali sono? Come sta procedendo? Allora, speranza c'è perché è normale che sia così, che stiamo lavorando grazie a Vito che è il nostro recupero di infortunati che è venuto a colmare una lacuna che al giorno d'andata non avevamo, tutto quanto, dunque lo sta seguendo giorno per giorno. Sicuramente lo spazio ci può essere, però ci vuole anche un pizzico di frutuna perché non ci deve essere nessun intopo, stando ferma col gesto ti crea tante situazioni come il tono muscolare che si abbassa, la caviglia che non avrà la stessa mobilità e dunque deve andare tutto bene, serve la volontà anche sua di Gigi di spingere al 100%, però i margini per un recupero ci sono sicuramente. Il regista della squadra, il regista retrato, il portiere, se non altro perché ha visione di campo più lunga e tutto il resto. Come ci arriviamo anche alla luce delle ultime due gare non tanto convincenti a questa che è una prova sicuramente di orgoglio e di recupero per l'Avellino ma soprattutto una chance, una possibilità per poter, speriamo, ce lo auguriamo, ribaltare la posizione e quindi andeporci al Catanzaro. Sì, no, io penso che Mimmo e il prof abbiano detto un po' tutto di quello che è lo spirito della squadra e anche quella dei portieri perché comunque si lavora a stretto contatto con questi ragazzi e è normale che si cerca sempre di dare il massimo e a volte non ci si riesce. Quindi io sono convinto che si stanno preparando al massimo, al meglio per affrontare questa ultima partita e anche i play-off. Salve, mister, in maniera abbastanza chiara che cosa sta succedendo o è successo ad Angelo Pagotto perché in una conferenza post partita un paio di partite fa ci disse Braglia che forte scusate che chi ha detto? Angelo Pagotto magari no no magari a forte a forte chiaramente perché ci disse Braglia che aveva avuto qualcosina che non andava che gli doveva parlare che ci aveva parlato insomma lo abbiamo recuperato è ancora un momento particolare? No è un forte in un campionato è difficile stare sempre al 100% Francesco ha fatto un campionato eccezionale era normale che ci fosse una piccola curva al ribasso e giustamente il mister vuole sempre prestazioni massimali e quindi ha parlato con Francesco ma mi sembra che poi nelle ultime partite Francesco abbia dimostrato di tornare ai suoi livelli e siamo tutti contenti perché secondo me lui ci può dare una buona mano nei playoff mister buongiorno le chiedo ovviamente visto che l'ultima giornata di campionato visto che abbiamo sempre detto confermiamo che abbiamo due portieri dello stesso livello se magari è previsto un avvicinamento a Cava magari con Pana in campo questo non penso però è il mister che decide sempre fino all'ultimo momento e poi durante la settimana lui comunque controlla è una persona molto pignola controlla sia l'allenamento che facciamo io faccio io con loro e anche nelle partitelle per vedere chi sta meglio fino adesso devo dire ha messo sempre in campo quello che secondo lui stava meglio poi a volte si riesce a dare il massimo a volte no però è difficile mettere sotto pressione un portiere e toglielo spesso perché poi alla fine secondo me sarebbe controproducente io sono contento perché ho veramente due grandi portieri sia sotto l'aspetto umano che tecnico e mi dispiace anche spesso soprattutto per Pana che rimane fuori perché meriterebbe anche lui di giocare però purtroppo in porta va solo un portiere e quindi è il rischio del calcio questo ecco Angelo tu sei stato uno un grandissimo portiere ti sei espresso ai massimi livelli nazionali e internazionali la differenza tra un portiere normale diciamo anche di serie B e uno del tuo livello secondo mi sta nella personalità ritieni che appunto parlando proprio di Francesco Forte che insomma comunque è il titolare di questa squadra ritieni che lui da questo punto di vista offre le massime garanzie soprattutto in vista di playoff dove il ruolo del portiere è primario sì diciamo che Forte comunque ha già dimostrato perché i playoff li ha già fatti è stato protagonista l'anno scorso facendo una grandissima partita anche contro il Bari secondo me ha tutte le caratteristiche anche sotto l'aspetto dell'età perché comunque il portiere come si sa matura sempre abbastanza tardi lui ha 30 anni sia sotto l'aspetto tecnico che anche sotto l'aspetto caratteriale forse è arrivato al suo culmine e secondo me la piazza di Avellino potrebbe essere il suo il suo giusto traguardo dopo dopo dieci anni di di prelegrinaggio in giro e di crescita personale mister dal punto di vista tecnico invece ha lavorato su qualcosa in particolare con entrambi i portieri e poi le volevo chiedere su Leoni che è sempre stato un po' al centro del dibattito perché non convocato che portiere ha visto anche in prospettiva io di solito tendo a parte una base della settimana della forza e del lavoro tecnico vedo la partita che c'è stata dove magari Francesco è stato un pochettino in difficoltà e si sviluppa durante la settimana l'allenamento per quanto riguarda il Leoni è un grandissimo ragazzo si sta allenando molto bene è un grande professionista peccato che è venuto nel momento sbagliato però lui non lo sapeva a quello che andava incontro perché comunque in quel momento eravamo in difficoltà e lui ha avuto il coraggio di venire in una piazza così e rischiare quindi purtroppo gli è andata male però comunque è rimasto nel gruppo con noi ad allenarsi a testa bassa e aspettare il suo momento io posso solo ringraziare questo ragazzo mister buongiorno non le chiedo né di forte né di pane di leoni ma di tutti gli altri del settore giovanile che so ogni tanto allena guarda in prospettiva può esserci un nuovo pagotto no adesso diciamo che il settore giovanile è appena incominciato quest'anno quindi per costruire un portiere ci vogliono degli anni avere anche un pizzico di fortuna sicuramente con noi in prima squadra si stanno venendo ragazzi li stiamo provando li stiamo allenando e ci vuole un po' più di tempo un po' di pazienza per adesso non vedo all'orizzonte qualcosa di così buono mister buongiorno ben ritrovato facevo riferimento prima al periodo di flessione che c'è per qualsiasi calciatore durante una stagione di forte allora le chiedo come lo ha visto reagire come lei è stato vicino a forte quando ci sono stati un po' dei passaggi a vuoto e poi se in ottica Final Four lavorerà anche sui calci di rigore forte apparato quello a Vibo Valencia sarà un aspetto da non trascurare ogni dettaglio lei lo cura in maniera maniacale nel senso buono sì questo è una hai detto una cosa giusta noi comunque il venerdì e il sabato sabato mi sembra li proviamo sempre i rigori perché è diventata anche una sfida un po' con la squadra e tutti quanti si mettono lì a tirare i rigori quindi i portieri bene o male una volta a settimana fanno un allenamento specifico su questo quindi poi dopo ci si dovrò vedere anche quelli che i primi sei che dovranno fare poi i rigori veri e propri poi l'altra domanda su un forte come ah no forte è un ragazzo serio anche lui sa che ci sono dei momenti così però quando ci sono questi momenti bisogna tenere la testa bassa lavorare sempre di più e migliorarsi sempre di più poi le cose passano e lui lo ha dimostrato adesso sta bene sono convinto che farà bene anche nel pre-off se non ci sono altre domande concludiamo la conferenza doveva esserci anche Vito Barberio preparatore atletico recupero infortunati restando in tema è avuto un contrattempo impegnato con Luigi Silvestri proprio se ne è parlato quindi ci sarà una ci sarà un'altra occasione per ascoltarlo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti